La provincia dell'Aquila è attiva dal punto di vista della pianificazione e vuole proporre un moderno atto di programmazione urbanistica per lo sviluppo dell'intera provincia, coinvolgendo però tutto il territorio e 108 sindaci. Il presidente Angelo Caruso lancia la sfida per la costruzione del nuovo piano territoriale di coordinamento provinciale con la prima conferenza programmatica in regione. Il punto di partenza è la definizione di un quadro infrastrutturale che tenga conto delle esigenze della comunità per individuare le strategie per un nuovo assetto socio-economico funzionale alle nuove esigenze che il sistema richiede. Le finalità del piano saranno anche quelle di definire un rinnovato assetto idrogeologico e idraulico forestale che miri alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali. Noi ripartiamo dalla fase di concertazione partecipativa insieme ai principali protagonisti della programmazione territoriale che sono i comuni. Andremo sui territori, andremo con la disponibilità a raccogliere le volontà e anche a suggerire iniziative. Tenuto conto che questo strumento oramai ha una data abbastanza lontana e soprattutto non tiene conto di tutte le evoluzioni che ci sono state, soprattutto negli ultimi temi nel campo della sostenibilità, della valenza ambientale, tutti i temi che oggi sono obbligatoriamente necessari da ricomprendere all'interno del nuovo piano. Presenti alcuni sindaci del territorio, altri erano collegati, esponenti dell'istituto di urbanistica, all'architetto Pierluigi Properzi che ha curato il documento preliminare con l'obiettivo, ha spiegato lui stesso, di dare una metodologia. Supporto attraverso una copianificazione, una interpretazione della normativa non di tipo dirigistico, ma di aiuto allo sviluppo e soprattutto dotando l'ente di un sistema di conoscenze del territorio che mette a disposizione di tutti i comuni per fare i propri relativi piani regolatori, un sistema di conoscenze stabilizzato, stabilizzato nel senso di utilizzare al meglio le tecnologie innovative che ci sono, in particolare quelle relative all'uso degli open data e della grafica di tipo digitale, per la costruzione di un patrimonio di conoscenze come dicevo stabile, da utilizzare sia per la pianificazione a tutti i livelli, sia per le procedure di valutazione.